Partiamo dalla Siria. L'attacco turco destabilizza ulteriormente la regione. C'è pericolo per la sorte dei kurdi che hanno combattuto l'ISIS? E c'è il rischio che tornino in Europa i militanti dell'ISIS? Ora, nelle carceri kurde, non si può stare indifferenti. Che bisogna fare secondo l'Italia? L'Europa deve muoversi con una sola voce. Non è accettabile questa iniziativa militare unilaterale da parte della Turchia. Rischia di essere controproducente. Rischia di creare ulteriori sofferenze alla popolazione siriana, kurda in particolare, di destabilizzare l'intero quadrante già compromesso. E in più rischia di compromettere anche la lotta contro i terroristi. E poi non possiamo accettare che ci possa essere un ricatto tra l'accoglienza che viene fornita dalla Turchia, meritevole a tutti i rifugiati siriani, accoglienza col supporto finanziario europeo, e questa iniziativa militare unilaterale che non ha nulla a che vedere e che non può essere perseguita. Avete promesso una manovra coraggiosa, però i soldi sono pochi. Come pensate di dare una scossa al Paese? Siamo entrati nel vivo della manovra. Io ho raccomandato a tutti i ministri, a tutti i tecnici, occorre coraggio, coraggio soprattutto nella lotta all'evasione. Occorre un piano efficace, integrato, e dobbiamo ricordarci che ogni euro che recupereremo dall'economia sommersa, dalla lotta all'evasione, sarà un euro che potremo destinare ai nostri figli nelle scuole, ai nostri malati negli ospedali, a tutti coloro che utilizzano le infrastrutture. E servirà anche a ridurre le tasse. Diventare onesti, essere onesti conviene. I giovani in tutto il mondo chiedono una svolta nella lotta al cambiamento climatico. Oggi i primi provvedimenti naturalmente però non bastano. Qual è la strategia del governo? Oggi avremo un primo assaggio delle misure che realizzano questa Green New Deal, ma noi stiamo lavorando a dei progetti che dipaneremo nei prossimi mesi. Annuncio due progetti pilota. Uno è quello che varerò tra pochi giorni, c'è l'inaugurazione a Ravenna, di una piattaforma, pensate al moto ondoso, ricaveremo energia da destinare alla terraferma. E poi c'è il grande progetto che ormai ha portato di mano, anche per l'idrogeno. L'idrogeno è un'energia pulita, è un'energia a disposizione che costerà sempre meno. Dobbiamo puntare su quella. Gli incontri del Ministro americano della Giustizia Barco i vertici dei nostri servizi segreti. Lei ha anticipato nessuna anomalia. Conferma di essere pronto a riferire al Copasir e quando? Questa mattina mi sono congratulato per lettera col Presidente del Copasir e ho detto che sono a disposizione per concordare un incontro e per riferire senza l'articolo 33 la relazione semestrale.